Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi mi trovo a Dosasco, piccolo paese nella Val Pellice. Questa è la chiesa della Beata Vergine della Natività. Scusate che passa la macchina. Allora, questo qui è il campanile, non so quante campane abbia. E' bellissimo e abbiamo l'orologio a numeri classici. Qui abbiamo la facciata, il portone, due statue, non so a chi siano dedicate. Poi sopra c'è scritto Dom, Ac, Deipar, Rae, Nat e Sacrum. E poi qui vediamo la croce. In alto c'è la croce sul campanile, là c'è la campanaria. E poi... Cosa? Vediamo anche lì... Aspettate, scusate che... Qua, se si riescono... Non si vedono tanto, ma lì ci sono le scale per salire sul campanile. E tornando in giù, vediamo il portone del campanile. Questa a me è una chiesa che piace tantissimo ed è molto bella. Ciao a tutti. Comunque là c'è il campanile, non so quante campane ci siano. Vabbè, ci vediamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.